9.21 in diretta anche oggi 31 agosto con il nostro appuntamento quotidiano domani 1 settembre ricorre la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato e segna l'inizio del tempo del creato che poi si concluderà il 4 ottobre festa liturgica di san francesco d'assisi noi abbiamo il piacere di essere collegati questa mattina via skype con il coordinatore dei programmi italiani del movimento cattolico mondiale clima nonché responsabile del circolo laudato si di assisi antonio caschetto buongiorno antonio bentrovato laudato si mi signore questo saluto da assisi per tutti voi grazie per l'invito grazie per questo saluto laudato si caro antonio allora raccontiamo e spieghiamo ai nostri amici telespettatori qual è il senso e significato più profondo di questa giornata di preghiera per la cura del creato sì come ha detto anche ieri nell'angelus il papa è anche una festa del creato ed è l'inizio di un tempo del creato la cosa bella è che non si tratta solo di un momento di preghiera ma è un intero tempo un mese che inizia appunto il primo settembre finisce il 4 ottobre festa appunto di san francesco d'assisi ed è un tempo ecumenico è un tempo in cui tutti ci riconosciamo creature e ci riconosciamo tutti i fratelli e sorelle anche con diverse confessioni cristiane no quindi sono momenti di preghiera e di azione che viviamo insieme ai fratelli anglicani e protestanti gli ortodossi e vengono vissute in varie parti del mondo dalla tante comunità sì eccoci sì sì stanno andando in onda le immagini appunto di un di un video che è stato realizzato in merito si è bello ed è proprio manifesta un po anche il desiderio non tante parti del mondo di poter vivere e di potersi impegnare insieme per la nostra casa comune ecco come possiamo impegnarci importante la preghiera certo importante anche la sensibilizzazione però nel concreto se si parla di impegno noi che cosa possiamo fare antonio allora nel concreto ognuno di noi è chiaro che noi siamo nel mondo otto miliardi quindi otto miliardi di persone che scelgono di vivere in maniera più più rispettosa del creato sicuramente possono fare fronte a questa crisi climatica che insomma è innegabile c'è una crisi climatica in atto che genera tante povertà tanta ingiustizia tanta disuguaglianza l'ingiustizia climatica che vivono i nostri fratelli e le nostre sorelle dall'altra parte del mondo costretti a migrare no a causa di di questi cambiamenti climatici e quindi noi siamo veramente chiamati a impegnarci con stili di vita sostenibili ma privati allo stesso tempo abbiamo anche il dovere di alzare la voce e chiedere ai nostri governi delle politiche però ognuno di noi ha anche un dovere e il dovere di pregare è la cosa veramente più importante nel senso la nostra mamma terra soffre è malata vive grande sofferenza lo vediamo anche con i cambiamenti climatici allora quando una persona soffre una persona in ospedale la prima cosa che siamo abituati allora in questo tempo del creato aspetta antonio abbiamo qualche problema di connessione aspetta scusami ti stiamo perdendo abbiamo avuto l'ultimo gli ultimi 30 secondi non abbiamo non ti abbiamo ascoltato perché forse c'è qualche problema di connessione vediamo se riusciamo a ristabilirlo perché è un peccato non ascoltare quello che che ci stai che ci stai dicendo sì 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 adesso sì forse la connessione l'unico problema un po tecnico sento anche l'audio delle immagini quindi ok perfetto allora chiediamo alla regia di togliere l'audio alle immagini quando vanno vanno in onda insomma stavo dicendo che ognuno di noi è chiamato con gli stili di vita personali ad avere un impatto minore nei confronti del pianeta e questo è chiaro se otto miliardi di persone consumano le risorse in maniera responsabile è chiaro che l'impatto sul nostro pianeta i cambiamenti climatici sono meno forti ma la cosa importante che dobbiamo fare insieme a questo quindi non è solo una questione di stile di vita di modificare le nostre abitudini ma anche proprio il papa ci invita a una conversione ecologica che un qualcosa di ancora più profondo quando il nostro cuore è convertito veramente noi ci rendiamo conto di essere creature del signore allora abbiamo veramente poi il rispetto del creato e di conseguenza avremo uno stile di vita più più sobrio quindi la preghiera in questo mese io l'augurio che voglio fare veramente a tutti quelli che stanno organizzando in tutte le parti del mondo d'italia eventi attività e che la preghiera sia efficace che la preghiera possa convertire il cuore di tante persone anzitutto il cuore il nostro cuore quando poi il nostro cuore è convertito saremo come san francesco d'assisi che anche nella più profonda sofferenza era capace di cantare laudato sì mi signore con tutte le tue creature bello e questo appunto ci porterà poi direttamente al 4 ottobre solennità di san francesco d'assisi e quale tema è stato scelto per questa giornata antonio il tema scelto dal comitato ecumenico internazionale che è stato poi ripreso dal bellissimo messaggio del papa per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato appunto sarà domani e il tema è che scorrano la giustizia e la pace ed è un tema che ripreso lascia che la giustizia e la pace scorrano ed è ispirato alle parole del profeta Amos come le acque scorre il diritto e la giustizia come un torrente perenne allora un po' questa immagine del fiume ci deve un pochino ispirare questo tempo del creato e probabilmente inizierà a parte che inizia in un tempo molto vicino per noi tutti no al periodo delle vacanze quindi nelle comunità nelle parrocchie nelle diocesi non è facile ma ci viene incontro la fortuna di di avere un tempo no per tutto settembre ed è veramente ogni anno ne vediamo che è come un fiume si inizia piano piano poi ognuno come tanti affluenti e si avvicina e porta tanta vita tanta speranza la cosa più bella è che noi non vediamo eventi non vediamo attività dei singoli momenti di preghiera o o incontri dibattiti tra le attività che suggeriamo e quest'anno in particolare suggeriamo la visione del film la lettera che il film che è stato prodotto dal movimento laudato si insieme a off the fence questa casa di produzione che anche premi oscar quindi è anche un bel film e il film è gratuito si trova su youtube quindi si può vedere tranquillamente si può organizzare una proiezione con la propria comunità e guardando proprio da internet questo questo film come spunto anche di di confronto di dibattito e molti coinvolgono per esempio nelle proiezioni sindaci assessori i vescovi ecco però non è tanto in sé l'evento l'attività la cosa che più ci interessa è il processo è che questo momento è di di settembre di tempo del creato sia anche una tappa di un cammino comunitario un cammino anche sino dalle e in questo senso veramente trova compiutezza anche la gioia di vedere che il 4 ottobre oltre ad avere la seconda parte della laudato si forma di esaltazione bellissimo si aprirà anche il sinodo sulla sinodalità questo mese può essere una bella palestra di sinodalità nelle vostre comunità perché lo vediamo è molto bello vedere il fermento e l'organizzazione di questa attività preparati i vostri cuori preparate le vostre comunità è stato bello anche sentire credo siano delle campane in sottofondo antonio sì qui in cittadella che bello sono vicino alla cappella ecco collegarci con con assisi è sempre una grande gioia grazie per essere stato con noi grazie ad antonio caschetto domani primo settembre giornata per la custodia giornata mondiale di preghiera per la cura del creato quindi ricordiamo ricordiamoci nella preghiera grazie grazie di cuore e a presto come sai siamo sempre a disposizione per dare notizie per fare da cassa di risonanza le vostre iniziative che bello grazie veramente di cuore per questa opportunità e buon tempo del creato a tutti voi grazie e laudato sì per nostra sora terra madre terra grazie ancora antonio caschetto grazie a tutti